Sono qui con Lionel Spinola, attaccante biancoverde classe 91, sicuramente non servono troppe presentazioni, Lio è uno dei protagonisti di questa stagione biancoverde, sia dell'inizio di stagione poi interrotto da covid, sia di questo mini torneo. Innanzitutto Lio come stai? Perché tu sei reduce da un infortunio che ti ha tenuto fuori nell'ultima giornata, sia per il fatto che avevi preso 5 cartellini gialli, ma sia anche per questo problemino. Come stai? Ciao Vero, bene, sono approfittato queste 5 munizioni per pulire lo che sarebbe i gialli e poi per approfittare di curarmi questa lesione che me la vengo portando della partita con contro l'Aquila, quindi aveva bisogno minimo di una settimana, quindi l'ho fatto e da ieri mi sono messo a disposizione del mister per la partita di domenica. E infatti questo problema te lo porti dalla gara contro l'Aquila, poi quella contro il Capistrello, infatti sei subentrato, hai chiesto una ventina di minuti dopo il cambio, si vedeva che comunque eri sofferente, quindi potremmo rivederti in campo già questa domenica contro il Lanciano? Sì, non dipende di me, dipenderà del mister, però la verità è che sì, che da ieri già mi sono messo a disposizione del mister e niente, aspettiamo di poter essere parte della rossa che giocherà domenica. Hai sicuramente guardato la gara dei tuoi compagni questa domenica contro l'Angolana, sei soddisfatto dei progressi che sta facendo quest'Avezzano? Sì, sì, l'ho visto tutto, purtroppo l'ho tenuto a vedere in casa, però ho visto tutta la partita, come l'ho detto al mister mi ha sembrato una partita dei migliori che abbiamo giocato, soprattutto nel primo tempo, poi purtroppo il rigore è sbagliato, un po' abbiamo calato, però siamo stati bravissimi a recuperare e la verità è che sono molto contento dei compagni per la vittoria e per portare tre punti a casa che erano fondamentali. Eh sì, l'Avezzano viene da tre vittorie consecutive, un avvio di stagione forse un pochino debole, ma vi state riprendendo alla grande. Lio, una domanda secca, dove può arrivare l'Avezzano? No, questo non te lo so dire, c'è la verità che noi lavoriamo per arrivare lo più alto possibile, questo lasciamo tutto per farlo, per guadagnare quella satisfazione di arrivare lo più alto possibile, se verrà dopo, dopo il 20 giugno, purtroppo non te lo so dire, adesso sarebbe, non vorrei dirtilo, perché purtroppo non siamo in condizione di parlare oggi, quindi, però lo che ti posso dire è che noi stiamo lavorando al massimo per arrivare lo più alto possibile. Grazie mille a Lio Spinola e insomma speriamo già da domenica di rivederti in campo nella condizione migliore possibile. Speriamo, grazie. Grazie a te Lio. Grazie.